Una garza dimenticata nella ferita dopo un intervento chirurgico e la paziente a seguito di una grave infezione muore. È successa una 67enne di Torre del Greco, Rosa Dabene. Le figlie hanno così deciso di sporgere denuncia. 17 tra medici e infermieri di tre strutture sanitarie del napoletano sono stati iscritti nel registro degli indagati della procura di Torre annunziata con l'accusa di omicidio colposo. La donna era stata operata a fine agosto per un ascesso inguinale all'ospedale Maresca di Torre del Greco. Poi dopo un mese e mezzo di degenza è stata trasferita nella clinica Bianchi di Portici, dove è rimasta una settimana. I medici, visto lo stato di malessere della donna, si sono resi conto della presenza di un'infezione grave. Da qui il trasferimento all'ospedale San Leonardo di Castellammare, dove in seguito ad un attack si è scoperto una garza della grandezza di un metro e mezzo all'interno della ferita della donna che è stata nuovamente operata. Sabato mattina, Rosa Dabbene però è morta. Aperta un'inchiesta, sequestrate le cartelle cliniche della donna. Chiarire con certezza le cause del decesso saranno i risultati dell'autopsia sul corpo della 67enne disposta nelle prossime ore. L'ASL Napoli 3 Sud ha avviato intanto un'indagine interna per chiarire se vi siano state responsabilità da parte dei sanitari dei due ospedali coinvolti che hanno avuto in cura la donna. Grazie a tutti.